Accidenti, immagino che ci metteremo tutta la giornata Oh, non mi dire Pitturare, mungere la capra, sistemare il tetto Le stesse cose ogni giorno Abbiamo bisogno di divertimento e avventura Se solo potessimo velocizzare le cose Avremmo tempo per il divertimento e l'avventura Quando avremo finito Ci avevo già pensato, bello Ehi ragazzi, come va la stessa? Caspita, era davvero furioso Non mi preoccuperai troppo Insomma, avrebbe funzionato Se solo avessi usato un po' meno polvere da sparo Pazienza Ok, concentriamoci sul trovare altre pitture E cerchiamo di non distrarci Magman, guarda! Ehm, Cuphead, non sono sicuro Sai cosa faccio quando non sono sicuro? Raddoppio la pasta in gioco Che cosa diavolo significa? Significa che andremo subito al Luna Park Assolutamente no Noi non andremo affatto al... Ehm, Cuphead, non sono sicuro Ehm, Cuphead, non sono sicuro Ehm, Cuphead, non sono sicuro Io, cuphead, non croat